Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico Baccheraia. Stanotte in orario 21.6 per consentire attività di ispezione delle opere d'arte sarà chiuso l'allanciamento con la 11 per chi proviene da Roma in direzione Pisa. Spostandoci in FIPILI code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!